Seracusa Ordine dei Medici, ma dedo da Codice Rosso la violenza contro i camici bianchi. Siamo davvero in Codice Rosso per la violenza ormai quotidiana contro i camici bianchi. È giunta l'ora dunque e per questo intendo coinvolgere anche il Suo'Eccellenza il Prefetto e il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza di mettere in campo efficaci strumenti di contrasto a un fenomeno che ha da tempo superato la soglia della tolleranza in un Paese che dovrebbe brillare in termini di civiltà. Commenta così Anselmo Madeddu, Presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, l'annesima vile aggressione di un medico malmenato mentre svolgeva il proprio servizio in una guardia medica della zona sud della provincia di Tusea. Sono troppi gli utenti impazienti che sfogano rabbia e frustrazione su professionisti che sono a loro disposizione per assisterli e curarli. Colleghi ai quali noi come Ordine garantiremo sempre la nostra piena solidarietà e sostegno costituendoci parte civile nei processi che scaturiranno da questi incresciosi episodi di cronaca. Ho chiamato di persona e collega credito, spiega Madeddu, per esprimere la vicinanza del nostro ordine e per sincerarmi delle sue condizioni di salute. Il suo racconto mi ha fatto venire alla pelle d'oca perché davvero rischiamo ogni minuto la nostra vita impegnandoci per salvarne altre. Di fronte all'assurdità e alla barbaria di certi gesti l'indignazione sorge spontanea ma noi medici non intendiamo lasciarci sopraffare da sentimenti negativi e useremo questa ulteriore esperienza negativa per avviare delle campagne di sensibilizzazione che portino a un maggiore rispetto per la nostra professione. Partiremo, anticipo a Madeddu, nei prossimi giorni con una marcia silente di camici bianchi nel centro storico della città, completato l'iter autorizzativo, comunicheremo la data alla cittadinanza che sarà chiamata a manifestare con noi nel rispetto delle norme anti-covid. Poi approfitteremo dell'inizio dell'anno scolastico per coinvolgere, grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici, gli istituti superiori della provincia, nella fattispecie gli alunni delle quinte classi per far meglio conoscere la nostra missione in modo che i giovani comprendano i sacrifici e la dedizione che questo mestiere comporta e a loro volta, giunti a casa, possano educare a rispetto anche ai loro familiari. Mi auguro, conclude Madeddu, che anche a livello nazionale vengono portate iniziative come quella da noi programmate e cercherò di coinvolgere in tal senso anche la Federazione dei Medici.